Benvenuti amici investitori e benvenuti a questo nuovo video, io sono Daniele e oggi tratteremo dell'ultimo video riguardante la cyber security perché dopo il video di approfondimento sul mercato della cyber security, come funziona, quali sono i vantaggi, gli svantaggi, le potenzialità dell'intero mercato dopo il video di domenico sulle principali aziende da tenere in considerazione per quanto riguarda questo determinato settore oggi concludiamo l'argomento con gli ETF, finalmente quali sono gli ETF da prendere in considerazione per questo settore se ce ne sono, quali sono quelli che maggiormente offrono delle opportunità per noi investitori sigla e cominciamo Prima di iniziare però ci tengo a fare una piccola precisazione ovvero che questo particolare settore è relativamente giovane soprattutto rispetto ad altri mercati, questo che cosa significa? Che spesso e volentieri non ci sono alcuni ETF oppure ci sono pochi ETF rispetto ad altri mercati ETF magari troppo giovani, devo essere sincero ci ho messo un po' a trovare degli ETF che riuscissero a rendermi più che altro tranquillo e dire ok questo ETF mi piace, questo ETF non mi piace perché molto spesso e volentieri quando si trovano dei trend così giovani con così alte potenzialità è difficile riuscire a trovare alcuni ETF collegati io vi ricordo come sempre di dare un'occhiata a Track Insight che è il sito con il quale noi utilizziamo la ricerca per gli ETF abbiamo anche una playlist che vi lascio qui sotto in descrizione nelle schede riguardanti tutti gli ETF che abbiamo analizzato e vi ricordo che se siete interessati agli ETF abbiamo fatto un'intera playlist legata soprattutto a questo settore, quello degli ETF quindi non perdiamo alcun tempo e iniziamo subito con il primo ETF di LG scusate, la leasing è ISPY ed è un ETF che reputo veramente veramente interessante al di là del mercato perché abbiamo una capitalizzazione di quasi 2 miliardi che è ottimo, sono perfette visto soprattutto che stiamo comunque parlando di un trend più settoriale e comunque è molto molto grande ve lo dico, è il più grande che troveremo dei tre ETF che prenderemo in considerazione l'ETF replica tutte le società attivamente impegnate nella fornitura di servizi e tecnologie per la sicurezza informatica per quanto riguarda i rendimenti abbiamo avuto un 2020 di fuoco perché abbiamo avuto un rendimento del 30,5% nel 2019 il 32,47% nel 2018 il 14,31% e nel 2017 dell'8,43% quindi comunque dei signori signori rendimenti andando a vedere invece l'analisi un po' più settoriale dell'ETF in questa considerazione è il più longevo che prenderemo in considerazione perché è del 2015, del 28,9, 2015 ha una replica fisica quindi non sintetica i dividendi, la politica dei dividendi è ad accumulazione quindi se cercate di creare una sorta di pack dove costantemente rinvestite i dividendi che avete ottenuto questo è l'ETF che veramente fa per voi, questa politica di dividendi è quella che sicuramente fa per voi il grosso del problema, lo vediamo qui, è la spesa annuale il TER come lo volete chiamare che è molto alto che è secondo me il vero contro di questo ETF perché si trova nella fascia alta, nella fascia costosa degli ETF solitamente un ETF intorno al 0,40, 0,60 ecco diciamo se proprio vogliamo stare un po' alti con i costi 0,75 è veramente alto valutate voi se a fronte dei rendimenti siete disposti a pagare una somma del genere per quanto riguarda un ETF comunque è nella fascia costosa per quanto riguarda la geografia l'ETF è fortemente incentrato all'interno degli Stati Uniti con un 77,53% Regno Unito al 5,88% quindi c'è uno scarto veramente ampio tra Stati Uniti e Regno Unito Canada 4,22% Giappone 3,77% e Europa nel suo complesso occidentale 2,63% per quanto riguarda la diversificazione aziendale invece la diversificazione mi è molto molto piaciuta perché stiamo parlando di un ETF che ha 55 aziende al proprio interno quindi non tantissime però è anche ovvio perché c'è comunque una scarsa presenza di aziende all'interno del settore perché stiamo parlando di un ETF molto molto settoriale le principali che abbiamo nel portafoglio sono Cloudflare al 3,49% FireEye al 3,33% BlackBerry al 2,97% CrowdStrike Holding al 2,97% e Palo Alto Networks al 2,72% quindi in generale su 55 aziende le aziende, le principali aziende, le 5 aziende principali neanche arrivano al 15% possiamo dire che c'è veramente una bella diversificazione o meno è quello che piace a me come sempre ve lo ripeto questi non sono consigli finanziari ma personalmente quello che faccio è se sono alla ricerca di una diversificazione perché sono alla ricerca di un ETF mi piace un ETF ben diversificato anche se devo considerare il fatto che se un'azienda va particolarmente bene i guadagni saranno un po' ridotti perché ci saranno anche le altre aziende sottostanti magari meno percentuali che la terranno un po' più ancorata ai rendimenti ma questo vale anche per le perdite quindi vedete voi per quanto riguarda il rendimento del rischio ma è un ETF che personalmente mi piace veramente veramente tanto ma non è l'unico perché vi è un secondo ETF questo che vediamo con il track LOCK che è un ETF abbastanza simile ma ci sono alcune differenze che ci terrei comunque a sottolineare le dimensioni prima di tutto sono molto meno ingenti rispetto al primo ETF parliamo comunque di un miliardo quindi non bruscolini soprattutto per essere come sempre un ETF settoriale le dimensioni sono perfette anche in questo caso secondo me certo sono la metà rispetto al primo però ragazzi che cosa vogliamo dire si tratta di un ETF che replica le società che sono esposte positivamente al settore di sicurezza digitale in questo contesto la sicurezza digitale comprende tutte le società che si occupano di trasmissione salvaguardia di gestione dei dati sensibili e o del controllo di accesso ai luoghi sicuri come ad esempio i centri dei dati per quanto riguarda i rendimenti i rendimenti del 2020 sono stati del 15,96% i rendimenti del 2019 sono del 30,95% perché vi dico soltanto questi anni? semplicemente perché questo ETF è molto molto giovane è del 2018 ok sì abbiamo comunque un paio di anni per vedere come è andato e su cui possiamo basarci comunque rispetto a quello del 2015 che come vi dicevo è più longevo abbiamo meno possibilità di studiare un po' i rendimenti ma comunque sono dei signori rendimenti come dicevo 15,96 e 30,95 sono un ETF settoriale questo significa che ha comunque delle potenzialità a rialzo ma anche il rischio derivante dal fatto che non abbiamo troppe statistiche ma allora perché a me piace così tanto questo ETF perché a differenza del primo ETF la politica delle spese annuali è molto più bassa che è il vero punto di forza rispetto al primo perché mentre il primo era aveva un TER dello 0,75 questo ha un TER lo vediamo qui dello 0,40 che è molto molto meno si trova nella fascia media non è proprio a sconto però diciamo che rispetto al primo ci terrei comunque a tenerlo in considerazione ha una reperica fisica e anche questo per quanto riguarda la politica dei dividendi è ad accumulazione per quanto riguarda le prestazioni a mio parere ha meno prestazioni rispetto al primo ma questo può significare sia per i guadagni che per le perde quindi valutate un po' voi per quanto riguarda la diversificazione lo possiamo vedere qui in basso la diversificazione è un po' meno accentuata ma comunque ha una diversificazione perché c'è comunque del Giappone cosa che mancava nel primo ETF comunque in grande maggioranza abbiamo l'India abbiamo la Svizzera Hong Kong comunque cercano di espandere all'interno nel contesto più globale l'intero ETF per quanto riguarda invece la diversificazione un altro grande punto di forza rispetto al primo ETF perché in questo caso abbiamo non 55 ma 106 aziende 106 aziende che sono il doppio e la diversificazione è veramente buona posso dire che mi piace tantissimo come vediamo la diversificazione le prime 15 aziende neanche il 25% quindi comunque veramente a mio parere se cerchiamo la diversificazione anche questo lo terrei seriamente in considerazione ma prima di chiudere vorrei lanciarvi una sorta non di sfida ma diciamo una sorta di provocazione ecco se vi sentite parecchio sicuri o volete rischiare qualcosa in più ho un ETF che fa per voi questi due ETF erano quelli un po' più classici grandi che fatturano che capitalizzano che performano molto bene ma se cerchiamo un po' più di rischio un po' più di brio vi consiglio di andare a dare perlomeno un'occhiata a quest'ultimo ETF un piccolo ETF il track è CYBP ed è un ETF molto particolare allora l'ETF è la replica delle società globali quotate i cui ricavi derivano in maniera significativa dai settori dell'informatica e della sicurezza informatica e della privacy ed è come vedete è piccolissimo siamo passati da un miliardo e due miliardi quasi dei primi due a 57 milioni che è veramente molto piccolo certo ETF settoriale ma adesso andiamo a vedere perché è così piccolo per quanto riguarda i rendimenti ecco diciamo che per i rendimenti ho qualcosa da dire perché è vero che è appena nato adesso lo andiamo a vedere però ha comunque fatto il 40% in un anno in piena pandemia nonostante ci sia stato questa tutta quest'area di rosso io ve la lancio ecco diciamo così per quanto riguarda i dati dell'ETF anche qui in questo caso la revertica è fisica anche in questo caso i dividendi sono ad accumulazione il TER è del 0,45 quindi un po' più alto rispetto al secondo ma molto meno rispetto al primo a mio parere è comunque da prendere in considerazione perlomeno per le performance se ci sentiamo particolarmente esposti al rischio la diversificazione anche in questo caso è leggermente meno accentuata ma in questo caso abbiamo non solo il Giappone che nel primo mancava mancava nel secondo ma anche Israele che occupa una parte importante dell'intero EDF il 7,51% per quanto riguarda l'esposizione invece sì ok normale diversificazione nulla di particolarmente eccezionale ci sono una cinquantina di aziende all'interno che comunque per essere appena nato l'EDF nato da neanche un anno mi piace devo essere sincero la diversificazione è un po' meno accentuata rispetto al secondo ma diciamo che è in linea standard con gli EDF che si trovano all'interno del mercato prima di chiudere io ve ne cito un ultimo il tigre è CIBR neanche ve lo faccio vedere perché c'è da dire veramente poco ma andatevela a guardare perché ve lo cito perché è il quarto EDF principale che riguarda la cyber security è veramente appena nato questo ha ancora più ancora meno longevità rispetto a quello che abbiamo appena visto le performance in meno di un anno sono state anche quelle del 40% ed è molto molto simile a quello che abbiamo visto anche per il numero delle aziende composizione TER è veramente quasi identico quindi andate a guardarvi anche quello io vi ringrazio per aver guardato questo video per riassumere un po' diciamo che se vogliamo stare un po' più tranquilli quello che sceglierei io personalmente come sempre non è un consiglio finanziario ma quello che sceglierei io soprattutto per la questione del TER e per la diversificazione anche se le performance sono un po' meno importanti rispetto al primo ETF quello delle shares il secondo che abbiamo appena visto mentre il primo offre sicuramente ottimi spunti per quanto riguarda i rendimenti ma il TER che è dello 0,75 è veramente alto certo bisogna scegliere un po' quello che si vuole andare a fare un'accortezza per quanto riguarda queste ETF andatevelo a studiare ci ho messo un po' a trovare la diversificazione sia geografica che delle aziende il mio consiglio è di andare direttamente sul sito di LG ed andare via a cercare direttamente l'ETF in quel modo lo riuscite a trovare altrimenti è un po' difficile riuscire a trovare quali sono le aziende che vi sono all'interno ma come sempre studiate assolutamente le aziende ultima cosa per quanto riguarda invece il terzo ETF se ci sentiamo particolarmente propensi al rischio questo terzo ETF merita di essere preso in considerazione magari non ci investiamo subito magari ci investiamo fra un anno fra due anni ma comunque se cerchiamo la Cyber Security questo è il terzo ETF che vi consiglio purtroppo non ci sono ETF migliori perché non ci sono altri molti altri ETF riguardanti la Cyber Security come vi dicevo essendo un mercato appena nascente diciamo relativamente appena nascente è molto difficile trovare troppi ETF non è come analizzare il mercato americano che ne hai avvalanghe è un ETF non solo è un mercato non solo molto settoriale rispetto alla tecnologia ma anche molto molto giovane vi ringrazio veramente tanto per aver guardato questo video spero che vi sia stato utile per analizzare quello che è stato un trend che a mio parere crescerà veramente tanto nel prossimo futuro per tutti quanti i motivi che abbiamo detto all'interno del primo e del secondo video vi consiglio comunque di andare a recuperarli vi ringrazio veramente tanto per la visione fatemi sapere comunque in un momento qui sotto che cosa ne pensate se siete d'accordo se non siete d'accordo e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi e buon dividendo a tutti